Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ben sappiamo, cominciano le riprese di Stranger Things 4, ma di questo ne parleremo anche nei prossimi giorni. Però, al contempo, è iniziato, esattamente tre giorni fa sono iniziate, le riprese anche di un'altra serie tv. Stiamo parlando, ovviamente, come si può evincere dal titolo, di Riverdale, esattamente della quinta stagione di Riverdale 5. A dare la prova che queste riprese sono iniziate, sono stati proprio i creatori della serie tv, con un post su Instagram di Roberto Aghissacasa, che vi farò vedere però tra poco, che ritraeva proprio una scena di Riverdale 5. Quindi è ufficialmente iniziata la produzione della quinta stagione, che chiuderà il ciclo di ciò che era lasciato un pochettino aperto, in sospeso, con la quarta stagione, ma darà vita a una nuova serie, a un nuovo ciclo di episodi. Quindi Riverdale 5 non sarà l'ultima stagione di Riverdale. Dopo la quarantena forzata a Vancouver, come ne sappiamo qualcosa anche noi, finalmente il 14 settembre si è ricominciato a girare, si è ripreso a produrre la nuova stagione di Riverdale. E queste sono state le parole del produttore, di Roberto Aghissacasa. Dopo 14 giorni di quarantena e mesi di preparazione, inizieremo a girare Riverdale 5 domani. Parole che ha sempre scritto su un post su Instagram il 13 settembre. E il post è questo qui, per chi vuole vedere la foto, un po' tutto, eccetera, eccetera. E come ho detto, sempre con un post, pochissimi giorni dopo, Roberto Aghissacasa ha anche divulgato la prima esclusiva foto di Riverdale 5, del set, del cast. Ed è questa qui. Una foto bollente, che ritrae un Archie Andrews, come sempre a petto nudo, con i capelli un pochettino più lunghi. Sembra che sta facendo una sauna, non lo sappiamo, però è bello sudato. Probabilmente avrà fatto qualche allenamento, non si sa. Oppure sta facendo una sauna. Ma in realtà non ci dice troppo, ovviamente, di Riverdale 5. Vediamo che è ancora presente il tatuaggio onorario dei Serpents. Ma quello che ha scritto il produttore sotto questo post, è la seguente... Ha scritto questo. E Riverdale è tornato. Prima scena della quinta stagione. Archie è in un bagno turco. Anche in un mondo con il Covid, certe cose non cambiano. Quindi sì, sta facendo una sauna, barra, bagno turco. Probabilmente dopo l'allenamento. Ci avevamo preso, è viva. Quindi al momento niente di troppo rivoluzionario. Vediamo il solito Archie Andrews, non troppo cambiato, visto che è sempre a petto nudo e che si fa una sauna. Non possiamo dire neanche qual è il contesto. Prova dire io, dopo un allenamento. Quindi cioè, super easy, super normale. Non penso che si trovi in prigione o chissà cosa. Quindi non possiamo fare troppe previsioni riguardo a Riverdale 5. Una previsione che molti hanno fatto, però, è che Archie morirà. Non da questa foto, l'hanno fatta così in generale, basandosi sulla serie TV, basandosi su Riverdale, sulle vecchie stagioni. E di questo ne parleremo però in un futuro video. Cosa però ci darà la quinta stagione? Come sappiamo, la quinta stagione riprenderà dove la quarta era finita. I primi episodi, infatti, ci mostreranno la consegna dei diplomi dei ragazzi di Riverdale. Dopo tutto ciò ci sarà un salto temporale di sette anni, dove vedremo i nostri protagonisti alle prese con delle nuove avventure, delle nuove sfide e situazioni completamente nuove. Sembra proprio quindi che Archie, Betty, Veronica e Jughead dovranno fare i conti con, sì, delle nuove sfide, ma soprattutto con quell'impatto nel mondo degli adulti che gli porterà ancora più in automatico delle sfide, dei cambi di stile di vita. Ancora non è certo, non è ufficiale di cosa accadrà, quali saranno queste nuove avventure, queste nuove sfide, ma ciò che sappiamo è che cambierà, che sarà qualcosa di rivoluzionario. Per vedere cosa accadrà in Riverdale 5, dobbiamo aspettare, e qui faccio una previsione, però vi farò anche un video dedicato anche a questo, comunque gennaio 2021, per vedere Riverdale 5, perché è lo slittamento, come ben sappiamo, è dovuto al Covid, doveva uscire un pochettino prima, la quinta stagione di Riverdale, ma si pensa a gennaio 2021, ma poi analizzeremo bene anche questa data. Quindi per oggi è tutto, voi cosa vi aspettate da Riverdale 5? Comunque scrivetemelo nei commenti, perché comunque parleremo anche di Riverdale, come ben sapete sul canale, faremo anche delle teorie sulle prossime stagioni, eccetera eccetera. Quando uscirà Riverdale 4 su Netflix in italiano? Anche questo lo vedremo in più avanti. Per oggi invece è tutto, abbiamo parlato del fatto che le riprese sono iniziate, qualche dettaglio, e quindi noi ci vediamo col prossimo video. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Buona giornata a tutti, ci vediamo domani col prossimo video. Ciao ciao!